I riprendi? Eccoli, eccoli, eccoli. Eccoli, 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 eccoli. Eccoli, 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 e armas sull'altro. facili. Parla come Marli sempre. Io parlo come sempre, che non ho la voce. Come foglia che gli ha detto a Giustozzi che parlava a Veneto. Cambiamo inquadratura. Uno spettatore d'eccezione. Ieri che hai fatto, Simone? Ieri schifo. Come in tutte le gare giovanili del 2012. E' 11. Bella maglietta, Leo. Muschi, dove sono io?